Gioielli vertiginosi, una sintesi che solo un poeta con la sua chiarezza e brevità immaginifica riesce a produrre. Gioielli vertiginosi è la definizione che Emanuello Oten ha dato della produzione di Ada Minola. Donna dal grande carisma, amatissima da artisti, poeti e intellettuali di cui fumosa e amica, Ada Minola trasferisce nei suoi gioielli il grande fervore creativo da cui è circondata, riuscendo a tradurre con originale creatività istanze e scelte formali. Grazie alle ricerche di Paola Stroppiana e alla collaborazione della famiglia Minola, per la prima volta sono state studiate e presentate al pubblico 120 opere che delineano i principali caratteri della produzione ora fadiada e forniscono alcune piste per comprendere il suo multiforme spirito. Vivace protagonista della borghesia torinese che nel secondo dopoguerra si apre alle novità culturali di respiro internazionale, Ada Minola vive un periodo felice di incontri che segneranno profondamente la sua ricerca artistica. È amica dell'architetto Carlo Mollino, al quale nel 1944 commissiona gli arredi dell'abitazione di famiglia e vent'anni dopo anche quelli della sua casa al mare, da cui proviene il bel tavolo verde esposto a Palazzo Madama. La plissettatura che anima i sostegni del tavolo fa pensare quasi a un omaggio di Mollino allo stile di Ada, alla ricerca su spazio e luce che l'artista conduce negli anni Sessanta. Cruciale per l'avvio della sua vocazione artistica e l'esperienza familiare. Raccontà Ada Minola in una intervista. Mio padre era un gioielliere e da bambina giocavo con le pietre preziose. Mia madre impazziva, ma lui le diceva che doveva lasciarmi fare. Un giorno trovai un cartoccio di pietre preziose scheggiate. Provai a scaldare della ceralacca e ve le incastonai. Creai così i miei primi orecchini. Oggi ogni volta che faccio un gioiello deve piacere prima di tutto a me. Lo costruisco da sola, come da bambina. Ve devo fare a mio padre. Sono abile manualmente e mi riesce tutto facile. Ho imparato a cesellare da uno dei più bravi cesellatori di Torino. Ada è d'altronde un'artista curiosa e un'allieva diligente. Ama affidarsi a buoni maestri, se riesce a trovarli in carne e ossa, ma quando non può li cerca nei libri. La sua biblioteca è ricchissima di cataloghi e manuali, attraverso cui studia il passato vicino e lontano, le tradizioni di altri paesi e gli artisti a lei contemporanei. Ama sperimentare. Modella la lastra a martello e a sbalzo, ma per le forme complesse usa la tecnica della cera persa. Cosparge con parsimonia la superficie di granuli e perle, pietre preziose, coralli, vetri colorati. Solca la superficie con abrasioni e incisioni per rincorrere e catturare il segno.